Sono la minestra e quando uno faceva gli spaghetti, si chiamavano tra loro le donne, le mamme, eccetera, ci fanno la spaghettata tutti insieme, oggi gli spaghetti. E dove c'era un punto della città, cioè del quartiere? No, io sono arrivato in via di Montarsiccio e ci sono stato fino al 45. Noi avevamo un pezzo di terra da 8500 metri su via Trionfare, con un cancelletto di legno, con una casa, con il pozzo, con la conocchia e non avevamo manco la corrente. Io mi ricordo che mia madre accendeva l'acetilena con il carburo, come quelli dei miniere, non c'era manco la corrente. Adesso invece ci hanno fatto una via, si chiama via Udifredi, e ci hanno costruito 15 palazzine. Invece c'era una casetta sola. Era lì che facevate le spaghettate? Eh sì, ma no, c'era un senso di solidarietà incredibile. Ovviamente erano tutti poveri, c'erano tutti a bicicletta, quindi invece adesso...